Ristorante Il Priore, un'oasi immersa nei vigneti e nel verde della Franciacorta Il locale è costituito da due sale, ampie e luminose, in cui è esposta una piccola collezione di opere d'arte del Novecento La cucina alterna innovazione e tradizione, in un percorso culinario dominato dai sapori del mare e dalla scelta di materie prime di alta qualità Notevole il fresco portico con vista panoramica, ideale per un pranzo nelle tiepide giornate primaverili o nelle calde serate estive Grazie a tutti